Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video, è sabato mattina, sto aspettando Flavio che rientri dalla palestra perché dobbiamo andare a fare un paio di giri per commissioni di casa prima che lui vada al lavoro e per iniziare subito questo video chiacchierata vi ripropongo anche qui su youtube questa foto che abbiamo scattato lunedì pomeriggio alle 7 di sera, siamo io Flavio, Luca e Simona, Luca e Simona ci seguono su youtube da diverso tempo, avevo condiviso questa foto di questo incontro anche con tutti gli iscritti al profilo instagram del mio canale e devo dire che ha avuto un grandissimo successo, allora ho pensato di spendere un attimo due parole, intanto voglio ancora anche qui, anche su youtube voglio ringraziare Luca e Simona, al di là del fatto che ci seguono da tanto tempo e ovviamente questo ci fa tanto piacere, io li voglio ringraziare perché questi due ragazzi non abitano a Roma, abitano fuori e sono venuti a Roma per dei loro motivi e si erano resi conto di venire proprio nel nostro quartiere, perché già in passato era capitato soprattutto in live di venire a conoscenza del fatto che loro ogni tanto si ritrovano nel nostro quartiere per diversi motivi, insomma lunedì sono venuti nel nostro quartiere e carinamente ce l'hanno fatto sapere e ci hanno chiesto di incontrarci, è stato bello, io penso che quando voi incontrate noi, dove per noi intendo gente che fa video, in realtà per voi è più semplice perché in qualche modo voi già ci conoscete, vedete i nostri video, le nostre espressioni, il modo in cui parliamo, in cui ci muoviamo, già ci conoscete, avete già fatto amicizia con noi, noi riusciamo a fare amicizia con voi nel momento in cui c'è un'interazione, nel momento in cui ci scrivete dei commenti pubblici o meno e quindi uno entra in contatto e piano piano, commento dopo commento, risposta dopo risposta, uno impara a conoscerci, ma sicuramente voi conoscete di più noi, quindi noi di meno, quindi quando ci sono queste occasioni di incontro e in questo caso davvero voglio ringraziare Simona e Luca perché sono loro, Simona e Luca, ho detto bene, perché sono loro che l'hanno creata, se non ci avessero detto che venivano qui non ci saremmo incontrati e in quell'occasione io penso che loro erano più tranquilli di noi, io e Flavio probabilmente più emozionati, anche se, ripeto, tramite messaggi e in live li conosciamo già da un po' di tempo, però sempre chi è dall'altra parte, non credete, ma è chi è dall'altra parte che è più emozionato di voi. Ho messo le due foto su Instagram e su Instagram in tantissimi mi hanno scritto, ma che bello, quanto mi piacerebbe conoscervi e quindi ecco, volevo riprendere un attimo questo argomento, noi su Roma non organizziamo incontri perché in realtà il canale non ha così tanti iscritti e di tutti questi iscritti pochi in realtà vivono a Roma, qualcuno appunto abita fuori Roma, però insomma creare un incontro non è così, non è così semplice, non sarebbe così affollato come quello magari, no, di altri youtuber. Scusate un attimo, la mia amica mi ha mandato una foto. Scusate, è all'Eure, ha incontrato i miei genitori. Oh, vedi? Stanno lì, carini. Quindi, quindi questo, abbiamo iniziato, che sorpresa, scusate un attimo, ora più velocizziamo perché, che vi stavo dicendo? Quindi la settimana è iniziata, vi stavo dicendo che questa settimana è iniziata così, è iniziata, è iniziata bene. No, non ve lo dico perché... E quindi questa settimana è iniziata così, è iniziata bene con questo incontro con Luca e Simone. Perché Luca e Simone? Allora, io ho una coppia di amici gemelli che si chiamano Luca e Simone, per cui per me non sono Simona e Luca, ma mi viene da dire Luca e Simone, tutto insieme, tutta una parola, chiedo scusa. Dicevo, la settimana è iniziata bene con l'incontro con Simona e Luca. E' bello quando mi sento dire che io e Flavio, dal vivo, siamo esattamente come ci vedete in video. Questa cosa mi piace tanto, ma mi piace di più il fatto che mi sento dire che sono più magra, perché in camera vengo, sia io che Flavio, veniamo un pochettino più pienotti, quindi considerate che in realtà siamo più magri. Che ve lo dico a fare per Silvia, Gerbi, cioè Silvia, è la metà di quello che vedete voi in video. Effettivamente è vero, anche io a Silvia Gerbi, a Silvia Sissi, che sono altre youtuber che io conosco come iscritta, effettivamente la prima cosa che ho detto a entrambe anch'io era stata accipicchia, però in video viene più pienotta e vabbè. E quindi niente, basta, questo era per dire. Per il resto poi la settimana diciamo che, ecco, ha lasciato un po' desiderare, più che altro perché questa è stata la settimana del cambio di temperatura. Le temperature si sono abbassate, ora non mi metto a fare discorsi più di tanto specifici su Roma, perché io penso che un po' in tutta Italia stia succedendo questo. Giornate di sole, però con temperature un pochettino più basse. Che cosa succede? Che le macchine, tu sali in macchina che è calda, magari sudi anche quel cincinin, che basta fregarti nel momento in cui esci dalla macchina e ti arriva il colpo di vento qui. Io per esempio è da giovedì che mi trovo in questa situazione, non so quanto passi in video, però sono leggermente raffreddata, leggermente chiusa, stanotte ho dormito piuttosto male, ma essendo sabato questa mattina mi sono dedicata a un paio d'ore di sonno in più, quindi ho cercato di recuperare un po', stanotte ho dormito veramente male. E' stato fatto che, niente, corri 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 a mettere via le cose platealmente estive e corri 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 a tirare fuori quei due o tre pezzetti un po' così autunnali che ti possono servire per passare in colume questo periodo di stagione e devo andare a comprarmi qualche cosa, perché ho visto che effettivamente ero rimasta praticamente senza niente. Quindi ora, prossima settimana devo assolutamente prendere forza e coraggio e dopo una giornata lavorativa, che forse sarà martedì, è da vedere, mi toccherà entrare a Euroma 2, questo centro commerciale che è qui dalle parti mie e andare a vedere che cosa trovo. Vi devo dire la verità, mi sto guardando su YouTube qualche video, appunto qualche haul, shopping di qualche youtuber che è già andata a fare un po' di shopping autunnale, ma non sto vedendo niente che in realtà mi piace e quindi questo aspetto un po' mi preoccupa. E rimanendo in tema di abbigliamento, vi faccio, vi voglio raccontare una storia, la storia di un paio di pantaloni bianchi, aspettate che li vado a prendere così li vedete, aspettate. Ok, li ho presi dall'armadio, i pantaloni sono questi, sono un paio di pantaloni bianchi, sì, sono da stirare, arrivano praticamente ad altezza a caviglia e terminano con questa fantasia. È un modello vecchio della Desigual, io questi pantaloni qui li ho comprati praticamente due anni fa ormai e non mi avevano mai convinto più di tanto perché non sono scuri, perché il pantalone chiaro tende a mostrare le cose un po' in abbondanza, mentre non c'è niente di meglio del nero che sfina o del jeans che bene o male comunque sia, ha un colore scuro e va anche quello un po' a mascherare. Non amo mettere pantaloni chiari, sono sincera, quindi quando quel giorno Flavio nel vedermeli addosso in camerino mi disse guarda che ti stanno bene, comprali, comprali, io li ho presi, ma avete presente quando la condo, la giapponese quella del vivere contenta perché butta tutto, lei non fa ordine, lei butta tutto, c'è una cosa che lei dice che elimina quello che non ti dà una sensazione positiva. Ecco io questi non avrei proprio dovuti comprare, non avrei proprio dovuto comprarli, perché non mi hanno dato sta sensazione positiva che tu dovresti sentire e percepire quando spendi qualcosa come 90 euro per un paio di pantaloni, cioè 90 euro per un paio di pantaloni, a me quel pantalone mi deve far urlare di gioia, cioè proprio che la gente che ha fatto questa, ha speso 90 euro di pantaloni, guarda quanto è contenta. Ecco non c'era stata questo momento di gioia quando li ho comprati, però sa di fatto che tra Riff e Raff li comprai. L'anno scorso li ho usati pochissimo, penso due volte, senza neanche lavarli, tra le due volte, li ho usati veramente poco. Quest'anno ho detto vabbè però è uno spreco, li ho comprati, stanno nell'armadio ma perché non devo usarli? Ma ce l'avevo sta sensazione che è qualcosa! Niente, questa è la breve storia triste di un paio di pantaloni estremamente sfortunati, perché me li sono andati a mettere, perché mo te devi annuvolare tutto che a me non mi si vede, aspettate, mettiamoci più a favore della luce. Sì, bollette, medicine dietro, mo non fatemi spostare tutto per piacere, ok, meglio, meglio. Allora perché dico breve storia triste di un paio di pantaloni sfortunati? La prima volta che li ho messi quest'anno era tre settimane fa, no, quattro settimane fa e praticamente era la mattina in cui io ero andata per la prima volta a fare il mio allenamento con il personal trainer in palestra alle 7-10 di mattina. Era la prima volta che vado in quell'orario di lunedì mattina. Quindi mi vado, faccio il mio primissimo allenamento, doccia, trucco, parrucco e esco dalla palestra indossando questi pantaloni e un paio di sandali neri. Avete presente quando tu proprio ti senti figa? Ah, quanto mi sentivo bene, bella, contenta, erano, era prestissimo ancora. Io mi ero fatta 50 minuti di allenamento in palestra col personal trainer, ero proprio pompata, mi sentivo proprio contenta, figa, ma che dico figa più di figa, figherrima, veramente figherrima. E niente, faccio tre passi, tre fuori dalla palestra, ragazzi ho fatto un volo, ho fatto una caduta che voi non avete idea. Allora la scena è stata questa. Io che camminavo un po' alla Carrie Brescio, avete presente Sex and the City, pezzetto della sigla, che lei cammina tutta così, con tutti sti capelli, che svolazzanti, bellissimi, riccissimi, che porta il body rosa col tutù sotto e cammina tutta così e poi si vede l'autobus che passa con la sua papà. Ecco, io ovviamente come Carrie, capito, che camminavo tutta così contenta, faccio tre passi e al terzo passo il mio cervello registra che sta succedendo qualche cosa che non dovrebbe succedere. Mi rendo conto che sto per cadere. Considerate che oltre ad essere tutta vestida, il sandaletto ancora aperto estivo, portavo la borsa personale e il trolley della palestra. Quindi trolley, borsa. Mi rendo conto che sto per cadere, improvviso due passi di danza, tanto per rimanere in piedi e poi capisco che niente, non è servito a niente e che sto per cadere, arrivare al suolo. Sbrago. A quattro di impastoni. Mi sono sbragata così. Tra l'altro c'erano due giardinieri di un consorso residenziale che è là vicino, che hanno visto tutta la scena e si sono ammazzati dalle risate. Tra parentesi, io dico, vedi una ragazza come me, tutta frullalla, tutta carina, tutta contenta, che si sbraga per terra. Io capisco che tu ridi, perché anche io sono una brutta persona, una bruttissima persona e quando vedo qualcuno cadere, rido. Però ragazzi, io mi avvicino e chiedo, signora si è fatta male? Le aiuto ad alzarsi? Che gli porta un bicchier d'acqua? Quelle cose minime, proprio di base, che uno fa quando vede una signora che cade. No, questi si sono messi a ridere come bestie e come bestie non si sono avvicinati, quindi mi sono dovuta ritirare da sola e fare il conto dei danni. Allora, praticamente i danni sono stati riportati tutti sul lato destro, perché praticamente sono caduta buttandomi sul lato destro del corpo, quindi ginocchio e piede destro. Mi sono fatta un'escoriazione così, vabbè, sul piede. Ah no, sì, perché io poi sono caduta, ma sapete secondo me perché al di là del marciapiede che era mezzo frantumato, sindacaraggi, fai qualcosa, io vedo che fai tanto, fai qualcosa pure per questi marciapiedi, al di là del marciapiede il mio piede non ha avuto presa nella scarpa, perché essendo appena uscita da una doccia mi ero appena incremata e quindi praticamente la crema evidentemente mi ha creato quell'impatto scivoloso che non ha retto e quindi, vabbè, so caduta e mi sono fatta una piccolissima escoriazione così sul collo del piede e va bene e ho bucato i pantaloni. Vedete? Questo buco qua corrispondeva praticamente al mio ginocchio. Al di sotto del tessuto bucato c'era il mio ginocchio che praticamente si era aperto con una ferita discreta, per cui praticamente che cosa ho fatto? Tra l'altro io quel giorno, oltre ad essere la prima mattina in palestra, era una mattina di riunione, quindi mi dovevo incontrare con il mio responsabile e con le mie colleghe, per cui nel rialzarmi la prima cosa che pensavo è qualunque cosa mi sono fatta ci devo mettere una toppa perché io non posso ripassare per casa, rischio di fare veramente troppo tardi a questa riunione, quindi vedo il buco, il pantalone poi era, oltre che è bucato, ovviamente sporco di asfalto, no? Vedo il buco, vedo il pantalone sporco, dico senti, ci metto una pezza, nel senso che ho preso letteralmente un fazzoletto di carta, l'ho imbagnato con un pochettino d'acqua, me lo sono infilato nel buco del pantalone, ci ho messo una pezza così e sono andata presso il punto di riunione. In questa sala riunione, in questo posto, arrivata praticamente, che è successo? Effettivamente ci ho messo quasi un'ora di macchina per fare questa distanza, quando sono arrivata là il ginocchio mi faceva malissimo perché io non mi ero messa un ghiaccio o qualcosa, mi faceva malissimo il ginocchio e quindi niente, entrando in riunione mi sono ovviamente subito, sono andata subito a salutare il mio responsabile, ho fatto guarda, perdonami, dammi 5 minuti, ho visto che qui fuori c'è una farmacia, vado, siccome sono caduta, mi vado a prendere un ghiaccio secco, per cui sono andata in farmacia, ho preso il ghiaccio secco, ho comprato dei cerotti garza, sono andata poi alla riunione in bagno, mi sono abbassata in pantaloni, ci ho messo la garza sulla ferita e ho tenuto tutto il giorno, mentre ero alla riunione, il ghiaccio secco sul ginocchio. Quindi primissima botta di sfiga di questi pantaloni. Allora tu che fai? Vabbè, sono tornata a casa la sera, li ho messi in lavatrice, erano tornati bianchi, tutto sommato, soltanto con questo buco, che però vi dico la verità, non ho voluto sistemare in nessun modo, perché io non so se in camera si vede, ma in realtà questo pantalone bianco c'ha tutta una serie di cuciture, mezzi strappetti, cosette e così, no? Ho detto, sai che c'è? Non vado neanche da una sarta, non cerco neanche una toppa, lo lascio proprio così, come un pantalone sgarato di quelli che, passatemi il termine sgarato, non può volgare, comunque ho dato, ho reso il senso di quelli che si vendono tranquillamente e che le grandi firme ti fanno pagare un fracco di soldi. E quindi ho detto, ma sì, dai, questi vanno ancora bene, tutto sommato, no? Mo li lavo, bo, così. Li ho lavati, due settimane dopo, quindi settimana scorsa, vado a rimettermeli, vado al lavoro e niente, praticamente io, voi sapete che faccio la mia seconda colazione durante la mattina, che consiste in una barretta ai cereali con lo strato di cioccolato fondente. Che cosa mi poteva succedere con un pantalone bianco? Che cosa mi poteva? No, ditelo voi, scrivetelo giù nei commenti, tanto voi già lo sapete quello che è successo. Mi cade un pezzo di cioccolato fondente in mezzo alle cosce, per capirci, altezza, zona intima. E secondo voi io me ne sono accorta? No, dico secondo voi io me ne sono accorta? No, che non me ne sono accorta, assolutamente. Ero seduta, quindi deve essere caduto questo pezzetto di cioccolato fondente e poi nell'alzarmi e nel camminare l'ho strusciato bene bene su entrambi i lati dell'interno coscia, fin quando una collega mi fa, guarda Fede che ti sei ammacchiato il pantalone. Io mi sono guardata e c'avevo queste due macchie marroni, ripeto, ambolati, zona intima, ma era tipo passata un'ora e mezza da quando io avevo mangiato quella barretta, il che significava che era un'ora e mezza che io andavo in giro con queste due macchie lì sul pantalone bianco senza neanche saperlo. Per fortuna avevo in borsa una maglia di quelle basic, non so se era intimissimi tezenis, una maglia un po', una maglia oversize di quelle abbastanza comode e nere, abbastanza lunga. Mi sono morta di caldo tutto il giorno per tenermi su questa maglia che andava a coprire la zona intima e quindi anche le macchie di cioccolato fondente. Niente, poi praticamente che cosa ho fatto? Da brava Massaglia, da presunta brava Massaglia sono tornata a casa, l'ho messa subito a lavare, ho usato quei due o tre accorgimenti che mia madre, Massaglia decisamente migliore di me, mi ha dato al telefono e però appunto presunta Massaglia perché in realtà no, incapace, le macchie sono rimaste, per cui cioè adesso io non so se si vede in camera ma qua, la vedete? Sì sì, se vede, se vede, eccola qua, una macchia su un lato e sull'altro là, no dai quella dell'altro lato non si vede più, meno male, però la macchia è rimasta, eccola qua, niente. Breve storia triste, pantaloni sfigati. No ma, il giorno e questi sono ancora da stirare perché io ho visto che sta macchia è rimasta, mo sinceramente, vabbè, li stiro e dovrò usarli sempre con qualcosa di oversize, leggermente lungo per andare a coprire la zona intima, perché a me non mi vada dando un giro che mi si vedono le macchie. Quindi niente, detto questo, breve storia triste di un pantalone bianco, ma io due anni fa lo dicevo, non mi danno sta sensazione di doverli comprare, non me la sento, dovevo seguire la mia sensazione probabilmente, perché poverini, l'anno scorso ho messi due volte, quest'anno ho messi altre due volte, ma due volte catastrofiche. E comunque il karma mi punisce, cioè io sono uscita quella mattina dalla palestra tutta contenta, fiera di me, mi sentivo fichissima, ho fatto tre passi e sono caduta rovinosamente al suolo. Niente, il karma non me lascia in pace, sto sempre, ce l'ho sempre qua. Vabbè, niente. Non sapete che cosa sto per chiedervi? Come sempre, io queste cose le condivido con voi, condividete voi con me quello che è successo a voi, perché non posso essere l'unica cretina che è caduta mentre zompettava fuori dalla palestra tutta contenta, non posso essere l'unica cretina che ha rovinato un paio di pantaloni bianchi con due mosse stupidissime, sono sicura che qualcosa del genere è capitato anche a voi, vi prego, aiutate la mia autostima a riprendersi, vi prego, scrivetemi giù nei commenti che anche a voi è successo qualcosa del genere, fatemi sapere, vi aspetto giù nei commenti. Niente, il sole se ne va, buio, buio, non mi vedete più, tutto buio, so tre giorni che piove, io prendo le bombe d'acqua, deve piovere anche oggi che è sabato? No, forse sta riuscendo il sole, lo vedete che riesce il sole? Ci vediamo in un altro video, bacio, ciao!